Il tour del Giappone e dell'Arsenal sembra essere servito al tecnico Arsène Wenger per rendersi conto dello stato del calcio, dell'impero del Sol Levante e della base a disposizione di Alberto Zaccheroni per la nazionale. Un quadro decisamente più rosio di quando a metà anni 90 impressionò la J-League con i suoi Nagoya Grampus. Sentiamo Wenger. Il calcio giapponese ha fatto grandi passi avanti. Sono arrivato nel 95, da allora il Giappone non ha saltato un solo mondiale. In Sudafrica erano poi in un gruppo molto difficile e riuscirono comunque ad arrivare agli ottavi. Con la qualificazione ai mondiali brasiliani già in tasca, sicuramente il calcio negli ultimi anni qui in Giappone ha fatto davvero un grande balzo di qualità. Dopo il gol segnato dall'unico gunner con gli occhi a mandorla, Rio Miaici, durante l'amichevole contro il Nagoya, Wenger coglie l'occasione per coccolarsi il talentino asiatico. Mi ha impressionato la sua rapidità, i suoi movimenti senza palla, la sua voglia di spingere sempre e affrontare senza paura l'uno contro uno. La sua attitudine poi in allenamento è splendida. Per questo gli ho dato una chance già da subito. La tournée giapponese dell'Arsenal si chiude venerdì con una partita non semplice contro gli Urawa Rez, quarti in campionato. Miaici sembra sicuro che non sarà affatto una faseggiata. Io Urawa Rez sono conosciuto in tutta la Lega per il grande entusiasmo dei propri tifosi e dell'atmosfera straordinaria del loro stadio. So che se la stanno cammando bene in campionato e che sembrano lanciatissimi. Vedremo come andranno le cose. Il pensiero di Wenger però sembra correre più avanti alla Emirates Cup del 3 e 4 agosto, dove i Gunners affronteranno il Napoli delle meraviglie, targato Rafa Benitez.